Buon pomeriggio a tutte, ben ritrovate, secondo incontro del percorso formativo protagonista nei governi locali promosso dal Consiglio regionale e dalla consulta delle lette del Piemonte. Volevo ringraziarvi innanzitutto della vostra presenza, una comunicazione di servizio. Vi è stato consegnato un breve abstract dell'intervento del professor Manacorda di oggi che è supportato poi invece da delle slide più esplicative e con questo vi è stato anche consegnata una scheda di valutazione che vi pregherei di compilare e di consegnarmi poi finita la lezione. Vi presento il relatore di oggi che è il professor Carlo Manacorda, docente di pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, facoltà di economia dell'Università di Torino, già docente di scienza delle finanze, bilanci pubblici della facoltà di giurisprudenza sempre dell'Università di Torino. Da moltissimi anni si occupa proprio di corsi di formazione per amministratori e dipendenti pubblici. Prego. Posso partire? Bene, buonasera a tutti. Io volevo aprire a parte la tristezza di questa giornata oggi appunto con la tragedia di Lampedusa, tutti ne abbiamo sentito parlare eccetera, ma è anche un po' una festa dell'Italia perché voi sapete che oggi essendo San Francesco appunto è il patrono d'Italia e allora dico vado lì chissà quante Francesche troverò a cui farò gli auguri oggi, no? Devo dire che li faccio direttamente soltanto a Francesca Alberand che penso sia presente perché ecco, tanti auguri. Naturalmente poi l'augurio a lei diretto oggi ma l'augurio a tutti noi, a tutti voi per questo lavoro infame che fate in questa amministrazione mentre tutto sta andando roto, mentre non vi danno l'Imu, non vi danno... Ecco, io devo dire che già l'anno scorso quando ho avuto il piacere appunto di stare con i vostri, con voi, le vostre colleghe di altre province torinesi veramente per me è sempre un fatto di ammirare questo senso del volontariato perché credo che nessuno di voi al di là magari non so di magari spendere un po' di benzina per andare... non credo che ci sia dell'indenità, no? Per cui dice, ah lo faccio per guadagnare, no? Ecco mi pare che ci sia tanto volontariato in questo servire nella pubblica amministrazione a maggior ragione negli enti locali che sono un po' trascurati appunto da parte diciamo del governo centrale per cui veramente un augurio a tutti di buon lavoro che abbiate tanti successi nelle vostre amministrazioni compatibilmente con le spending review di cui appunto oggi dovremmo parlare che purtroppo non sono delle cose particolarmente piacevoli. Ecco appunto intanto a me piace sempre a volte ragionare su delle cose magari marginali. Qui siamo in uno strano paese dove pochissimi sanno l'inglese ma tutti parliamo l'inglese perché qualche cosa bisogna sapere dire se devi riempirti la bocca. Ecco sta spending che è diventata immediatamente review, no? Qualche uno sicuramente sa l'inglese, allora spending è un termine inglese, quello che è attaccato è un altro termine inglese, non è un termine francese, no? Quindi non è review, è review. Che piaccio o no? Se voi andate su un dizionario inglese e guardate la parola review, no? C'è un accento addirittura sulla i che dice è review. L'unico che insomma anche se io non l'ho ammirato particolarmente, infatti lo criticheremo anche oggi, ne è un po'. E Monti che però la pronunciava bene, Monti era raffinato in queste cose quindi attorcinava la lingua e arrivi uno. E allora lo diceva proprio veramente bene. E allora questo paese è un paese che perde il senso delle proprie tradizioni, delle proprie origini. Quando incominciamo a avventurarci in queste cose qui e allora incominciamo a sentire dire che tutti dicono lo stage, no? Sono andato a fare uno stage. Allora voi sapete che in inglese stage significa palcosenico, non significa soggiorno di studio, di formazione. È una parola francese che va pronunciata alla francese, che è stage, non è stage. Perché stage significa palcosenico. Allora quando uno dice io sono andato a fare una stage, allora io lo ribatto subito, dice ma cos'eri su un palcosenico a fare la... Ecco per dire non parliamo in questi giorni che bisogna andare da un lato a fare lo showdown e dall'altro lo shootdown, no? Allora io mi chiedo sempre, ognuno di noi per quanto diciamo intelligente, colto che sia, eccetera, ha comunque dei limiti. Ma ha maggior ragione, cioè l'informazione, cioè che il telegiornale, la radio, il giornale, deve essere alla portata di tutti. Allora io mi chiedo quanti oggi in questi ultimi quattro giorni hanno capito che cosa succede negli Stati Uniti continuando a sentire, Stefanciulli perché è arrivato lo showdown. Ma cosa è successo negli Stati Uniti, no? Ecco, è questo che io veramente... Ecco dico, cominciamo anche magari dalle piccole cose, ma spending io dirò review perché ritengo che si dica così e non dirò review, anche se lo dicono tutti da quando è uscita appunto questa barzelletta dell'aspergo, una barzelletta è questa qui per carità. Ecco, di che cosa ci occupiamo sostanzialmente? Avete anche lì appunto una specie di promemoria, un'agendina di quello che faremo oggi. Appunto cercheremo di da un lato capire che cos'è questo istituto di cui si è parlato, si parla, eccetera. E dall'altro cercare di calarlo, come diceva proprio il titolo dell'intervento, calarlo nella realtà delle amministrazioni locali per vedere se ci dà qualche idea per cercare appunto di spendere sempre di meno, no? Ecco, questo sostanzialmente è il senso. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo fare incominciando appunto a dire che cos'è questa spending review, il concetto, poi come è stata introdotta nel nostro Paese, essendo ovviamente un fatto non che ci siamo inventati noi, ma che è nato anche a livello internazionale, eccetera. Quindi ci sono state delle leggi che in qualche maniera ne hanno parlato, certamente la più nota è questo decreto di Monti, il 95, di cui tutti voi sicuramente avete sentito parlare. Poi c'è un'altra questione, che ogni tanto noi siamo quel Paese che ama tutto, no? Ama il federalismo ma non lo attua, parla di costi standard, ma non sa bene come sono. Però guarda caso anche tutto questo concetto appunto della spending review, eccetera, è legato a questa strana cosa dei costi standard, di fabbisogni standard, di cui sì si sa vagamente qualcosa, ma poi dice ma dove sono? Si incontrano per la strada, non so, qualcheduno me li presenta. E beh, li stiamo sempre studiando, no? Questi costi standard, ma di lì sappiate che ci sarà il futuro del Paese, perché quando avremo fatto i costi standard, tutte le amministratrici, gli amministratori salteranno di gioia perché avranno quello che è giusto che venga dato loro. Questo è il senso appunto a volte dell'ironia che si fa su certe cose, però indubbiamente è sicuramente un punto fondamentale se si vuole parlare di questo processo di revisione della spesa in una maniera concreta che non sia un po' il fai da te, che sarà poi la conclusione a cui arriveremo dopo questa chiacchierata di oggi. E infine appunto alcuni indirizzi, perché questo è il titolo un po' dell'intervento, di provare a prendere questi concetti così di carattere generale astratto e calarli nella realtà appunto di un'amministrazione locale. E io penso all'amministrazione locale sempre al piccolo comune, al medio comune, perché è inoltre di stare lì, certo il grande comune ha tutte le sue possibilità, i funzionali, ma penso sempre a questa realtà nostrana, 1206 o 1208 comuni in Piemonte di cui 700 e passa sono sotto i 5.000 abitanti, 356 ne hanno meno di 500, magari qualcuno di voi ha anche inserito in queste realtà e allora appunto diceva, ma qui mi bartellano di qua, mi bombardano di là, devo fare la spending review, devo fare questo, devo fare quella. Siamo quattro gatti, cosa potremmo fare per applicare questi istituti? Ecco questa è un pochettino la traccia, diciamo, delle cose che cerchiamo di dirci oggi in maniera il più possibile, diciamo, assimilabile da parte di tutti. Allora, spending review, significato è revisione della spesa, questo appunto sarebbe la parola che dovremmo usare tutti senza riempirci quella cosa con review, che appunto non sta bene. Allora, perché è venuto appunto questa idea? Noi dobbiamo sempre partire dal concetto che, e lo applichiamo, guardate che tutti i giorni a casa nostra, nelle nostre faccende, facciamo delle cose che poi quelli che hanno un pochettino la puzza sotto il naso, che si credono degli intellettuali, traducono in concetti astratti, scrivono dei libri, in realtà sovente le cose appunto è il buonsenso che ci porta a dire queste cose qui. E allora, se io parlo di revisione della spesa, dico, ma a nessuno viene in mente, chiunque individuo, un'associazione, qualche cosa, ma vediamo un po', non è che per caso stiamo facendo delle cose fuori dalle nostre possibilità, ma a dire tutti gli operatori, si interroga di tanto in tanto per capire come vanno le cose, chiedendosi che cosa, sostanzialmente, se per caso appunto facendo certi tipi di spese, le sto facendo le spese fuori dai poteri appunto che ho, dalle economie, le spese che sto facendo sono ben indirizzate? Le spese che sto facendo sono compatibili con le mie risorse? Ecco, sono tre domande che poi sono alla base della spending review, perché a un certo punto spending review significa individuare degli obiettivi verso i quali muoversi, capire se le risorse di cui io dispongo sono compatibili, se posso fare eventualmente delle economie e soprattutto se sto spendendo bene. Questo è appunto il quanto è il senso di questo passaggio e quindi quando io a casa mia dovessi fare operazioni di questo genere e quindi diciamo ho dei dubbi, se magari non sto spendendo potrei fare delle economie, è chiaro che è meglio che faccia una specie di rivisitazione della mia economia domestica per capire se le cose vanno. E naturalmente stare appunto nella realtà di questi giorni, quante famiglie appunto in questi giorni stanno facendo delle spending review, ma di quelle proprio con le lacrime agli occhi, perché è inutile star lì a girare, sì sì, siamo ancora tutti ricchi, siamo troppo ricchi e la gente va in montagna, va al mare, si diverte eccetera, ma purtroppo sappiamo anche che ci sono persone le quali la spending review la fanno ma senza applicare le grandi regole, perché con quattro soldini non sanno come arrivare alla fine del mese, insomma la storia della seconda e della terza settimana, sicuramente comporta che queste persone qui facciano delle spending review abbastanza ricorose nelle loro economie domestiche. Naturalmente questo, abbiamo fatto così questa introduzione per andare proprio terra a terra di alcuni concetti che sono cose che avvengono indipendentemente da grandi regole che poi ovviamente devono essere seguite quando operazioni di questo genere qui vengono fatte da grandi organizzazioni, che possono essere organizzazioni pubbliche o organizzazioni private, perché anche le aziende private sovente appunto, anzi molto di più di quanto non faccia la pubblica amministrazione, fanno delle operazioni per capire se il mercato è sempre disponibile appunto ad acquisire i loro prodotti avanti avanti di questo passo. Naturalmente soprattutto è intervenuto appunto questo concetto qui quando si è guardato alla spesa pubblica e quindi si è parlato in prima e battuta, in maniera piuttosto insistente, quando appunto gli stati hanno incominciato a capire che avevano risorse sempre più ristrette e quindi dice ma vediamo un pochettino cosa fare. Naturalmente poi ogni stato, ogni amministrazione pubblica, le proprie organizzazioni e quindi appunto ognuno poi ha fatto degli adattamenti, vedremo che ci sono altri paesi che l'hanno applicata e via dicendo, ma quello che si dice l'ordinamento interno di uno stato fa sì che alcune cose avvengano in una certa maniera presso lo stato A, avvengano in un'altra maniera presso lo stato B. Noi abbiamo avuto noi certe regole che vedremo e quindi diciamo noi parliamo della nostra pur sapendo che è un fenomeno abbastanza diffuso. Ecco cosa si intende? Lo leggiamo qui, un processo attraverso il quale i governi analizzano le voci della spesa pubblica, quindi analizzare le voci della spesa pubblica, ricercando che cosa? Prima di tutto gli sprechi e ridefinendo delle procedure per ottimizzare le uscite di bilancio. Questo è un po' un concetto astratto ma che identifichi i vari passaggi, intanto è un processo, non è una cosa che si fa una volta all'anno, una volta, ma dovrebbe essere costante anche se poi vediamo alcuni momenti in cui poi si incarnano queste cose qui, ma il processo, però il processo già dà di per sé l'idea di qualcosa che deve avvenire con una certa continuità. Fanno questo processo per analizzare le voci della spesa e vedere se ci sono degli sprechi e ahimè, purtroppo questo lo sappiamo e qui di nuovo nella piccola realtà comunale che ci siano poi dei grandi sprechi o qualche difficoltà a pensarlo perché in genere si sta molto attenti eccetera, beh bisogna dire che forse qualche grande spreco nelle grandi amministrazioni viene fuori e allora poi vengono fuori e in me quelle cose di fronte ai quali tutti sembra che cadiamo dalle nuvole no? Ma c'era il tale ente che ha sprecato 40 milioni, parlo di cose torinesi, qualcuno può anche capire a chi mi riferisco, ecco allora lì è più facile che si annidino appunto delle possibilità di dispersioni di finanza pubblica. Nelle piccole realtà questo non dovrebbe o non può o più difficoltà ad avvenire, ciò non toglie per carità, anche a casa mio posso, siamo partiti di lì dicendo anche a casa mio potrei fare delle cose pensando di farle benissimo perché in realtà se ci penso su un momentino dico ma non è mica che stia buttando i soldi dalla finestra per caso e allora ecco che lo spreco è poi una cosa che è in intanto ripensare un certo tipo di intervento di uscita finanziaria e vedere se non ci sia qualche cosa da correggere, poi tutto quello. Quindi ricercando gli spieghi e poi ridefinendo procedure per ottimizzare, questo è attualmente un concetto immenso perché ridefinendo delle procedure che cosa significa? Pensare alle organizzazioni degli uffici, pensare appunto alle procedure non so di acquisto di beni e di servizi, facendo tutta una serie di cose che certamente dal punto di vista diciamo aziendale sono quelle operazioni che consentono di andare poi a toccare se per caso non ci siano delle diseconomie da qualche parte, magari non so un esubero di personale da una parte e un cattivo utilizzo di altre persone dall'altra parte, acquisti magari sul mercato di beni da trasformare che potrebbero essere acquistati appunto a dei costi minori, insomma è tutto quel processo che qualche uno sicuramente ha sentito dire e magari anche nei vostri enti qualche uno ha cercato di fare, sia pure con tutte le difficoltà del caso, cioè il famoso controllo di gestione perché poi alla fine è il concetto di andare a controllare passo passo se per caso quegli obiettivi che mi ero prefigurato stanno andando avanti, se per caso non sto utilizzando male le risorse e naturalmente ci sono delle tecniche attorno a queste cose qui che in qualche maniera aiutano a fare quei processi di spending review, di revisione della spesa che ovviamente fatti così in astratto senza delle procedure molto chiare e molto di base potrebbero appunto dar luogo dei risultati poco significativi. Quindi questo è un po' il concetto diciamo che riassume quali sono le varie operazioni che vengono appunto condensate in questo concetto della revisione della spesa. Ecco per fare queste cose qui diciamo possiamo individuare quattro punti diciamo operazioni di base, predeterminare degli obiettivi da raggiungere e qui naturalmente di nuovo appunto che tanto per dire voi come enti locali lo conoscesse già da un po' di più di tempo, non dico quelli piccoli ma magari un po' di relazione previsionale programmatica qualche d'uno l'ha fatta, magari qualche PEC qualche d'uno ha dovuto farlo, quindi il concetto di stabilire degli obiettivi, programmare eccetera è un fatto che perlomeno negli enti comune e province si è un po' meno in altre realtà pubbliche perché il discorso della programmazione nella pubblica amministrazione generale non è mica una cosa che sia vecchia come vecchia l'unità d'Italia, la programmazione non si sapeva neanche che cosa fosse nel settore pubblico, se uno va a vedere un pochettino indietro negli anni cosa si faceva la programmazione, ogni tanto il Parlamento faceva la legge di programmazione economica e allora si passavano sei mesi a fare il libro dei sogni e uno diceva che avrebbe fatto l'autostrada per andare sulla luna, l'altro diceva che faceva non so la ferrovia per andare in fondo alla forza delle Marianne, si scrivono queste cose, poi si prende la legge di programmazione e la si metteva lì e dall'altra parte andavano appunto avanti i bilanci eccetera perché poi alla fine la programmazione ha un senso se c'è sotto appunto il supporto delle risorse perché se non c'è è venuto a stare lì a fare i libri dei sogni. Piano piano questi concetti qui che per carità erano già ben presenti ovviamente nel settore privato perché voi capite perfettamente che un'azienda che non programmi la propria produzione, la propria attività, le proprie vendite eccetera è destinata a soccombere a un certo punto e invece il concetto della programmazione del privato è praticamente da sempre che esiste. Pubblica amministrazione no. Perché? Perché alla fine ci sono dei strani concetti che regolano la pubblica amministrazione che sono appunto ah ma intanto la pubblica amministrazione non può fallire tanto per dire no? Quando si sente dire appunto anche lì con le strane parole default, non il default dello Stato, ma non c'è nessun default di un ente pubblico. Potrà essere in difficoltà, c'è la situazione di di sesto che magari qualche d'uno o conosce o certamente sa che cos'è, è un ente locale, c'è una situazione di incapacità dello Stato di rimborsare i debiti, ma nessun ente pubblico può fallire e non può fallire per quale ragione? Perché l'ente pubblico nasce proprio per perseguire degli interessi pubblici. Allora fin tanto che sussistono questi interessi pubblici certamente lo Stato non può tirarsi indietro. Quindi come dico appunto il fatto che non ci fossero appunto delle possibilità di fallimento ha fatto sì che la pubblica amministrazione un po' come fanno le persone che non sono tanti presi, tanti andati, se poi se ne andavano un po' di più facevano un po' di debito pubblico. Tanto poi arrivate a 2.070 miliardi, cosa volete che sia? Farne 5 miliardi di più o 5 miliardi di meno. Cioè soltanto se uno programma, stabilisce degli obiettivi, capisce se le risorse sono idonee per raggiungere, può a un certo punto evitare un po' questi disastri in cui tutti noi stiamo vivendo in questi tempi, eccetera. E quindi piano piano anche la pubblica amministrazione pur lontana da queste cose, ancora oggi incapace di stabilire una linea, un percorso, ma per mille ragioni, per a volte anche per fibrillazioni politiche. Vediamo quello che sta succedendo e dei successi in questi giorni. Cose veramente che dice, ma cosa sarà domani? Non per niente. E voi siete ancora lì, credo che aspettate di fare il bilancio. Che noi ci scriviamo in questo bilancio? C'è qualcuno che si occupa dei bilanci qui? Ecco, lei l'ha già fatto? Come l'ha fatto? Proviamo a parlarne tutti insieme, credo che, insomma adesso per carità non mi fraintenda, ma ormai siamo arrivati al punto in cui non si mettono, non si scrivono i numeri, ma si danno, come si vuol dire, no? E che cosa metto? Ma quello incasserò del limo, non sappiamo nulla il taglio lineare, il non taglio lineare e chi più ne ha più ne metta e allora a quel punto si fanno dei bilanci. Allora, vogliamo anche dirci delle cose ma proprio fuori, che non mi piace un po'. Dico, ma scusate, voi avete letto certamente la norma che proroga la data di presentazione dei bilanci degli enti locali al 30 novembre. no? Il bilancio annuale di previsione del 2013 si presenta il 30 di novembre, ma scusate, ma anche dal punto di vista soltanto, diciamo, delle parole, il bilancio annuale, ma scusate, annuale significa che dura un anno. Ecco, niente, noi con la massima tranquillità ci riempiamo la bocca con la spending review, poi invece andiamo a scrivere delle stupidaggini di questo genere nelle leggi e tutti le sopportiamo, e va beh, pazienza, se va così. Ma allora, mi volete dire che programmazione, visto che parlavamo di programmazione, c'è dietro un bilancio che, ben che vada, durerà un mese, eppure guardate che ho passato la mia vita ad andare a insegnare alla contabilità pubblica e di Stato, la funzione del bilancio è la funzione programmatoria, perché dietro il bilancio c'è il programma delle... ma dove, scherziamo? Per non parlare poi di tutte le altre cose, non stiamo ovviamente a dilungarci, ma perché anche le sono cose che capite benissimo quali sono, questi undici mesi, dieci mesi, come si è andato avanti? I dodicesimi giocavano, non giocavano? Eh, se non erano un dodicesimo facevano un ottavo, ma facevano lo stesso, no? Appunto, questo... perché poi alla fine la gente si aggiusta. Ma dico, ma scherziamo? Cioè, noi qui vogliamo imbrigliare tutto con delle regole, se tu non hai il bilancio fai la gestione per dodicesimi, sì, ma momenti, i dodicesimi si durano un mese, due, può ancora andare, ma se mi durano undici mesi, eh, beh, faremo undici mesi, allora siamo andati avanti così, io non voglio entrare nel merito, io non voglio certamente accusare nessuno, anzi li difenderei per aver gestito, o gestire in questi dieci mesi in questa maniera, che significa poi andare col buon senso nelle cose, altro che con i dodicesimi o con i non dodicesimi, puoi arrivare felicemente all'alba del 2014 e presentare il bilancio del 2013 e questo mi pare il massimo, diciamo, di una gestione programmatoria di uno Stato. Detto questo, cancello tutto perché sennò poi dici, eh, ma allora qui non se fa nulla. Niente, per fare una splendida, bisogna dire che cosa voglio fare? Stabilire degli obiettivi, come lo stabilisco? Lo stabilisco programmando, facendo dei documenti in cui scrivo le cose che voglio fare. Quale, entro che periodo fare questi tipi di intervento per vedere, abbiamo visto il processo per andare a vedere se ci sono degli sprechi, eccetera, e beh, certamente, diciamo, in queste operazioni qui c'è il cosiddetto ciclo di bilancio e ci sono delle dati in cui lasciamo perdere quello che abbiamo detto adesso, ma teoricamente uno dovrebbe mettersi lì e ottobre, novembre, cose di questo genere, ragionare, diciamo, al prossimo anno cosa facciamo? Vediamo un po', vorremmo fare A, B, C, E, D, l'anno scorso abbiamo fatto B, abbiamo mica speso 3, ecco, questi sono poi dei ragionamenti di spending review, perché c'è quel momento lì in cui io devo costruire il mio documento per l'anno dopo. Questo punto è quello che le norme dicono, ovviamente, oggi addirittura rafforzata la cosa, perché quello che per voi era stata una cosa già acquisita nel 1995 della funzione autorizzatoria del bilancio pluriannale, oggi sembrerebbe stendersi a tutte le pubbliche amministrazioni, per cui c'è l'aspetto del bilancio, bilancio annuale, per quello che si vuole fare, poi il bilancio pluriannale che diventa uno strumento di gestione, perché finché era uno strumento solo di programmazione, e vabbè, si scrivevano delle cifre, delle somme, se oggi è uno strumento di gestione, significa che io posso già comunque impegnare delle somme dell'anno dopo, dell'anno dopo, e quindi devo sapere di mettere giù delle cose che stiano un pochettino in piedi, non dovrei proprio solo i numeri, ma fare appunto delle previsioni ragionate, adesso vado nelle parole difficili, no? Individuare degli indicatori di performance, no? Avete sentito tutto, Brunetta, che è andato giù per anni e anni a trovare la performance, è questo, è quell'altro, eccetera, e di nuovo con mica delle facili, ma fare una situazione facile per interpretare il concetto di performance, perché la performance sono tante cose, se voi andate a vedere su un dizionario della lingua italiana trovate performance, riferite all'osciatore che ha fatto una buona prestazione, ha fatto una buona performance, no? Se io parlo d'aziendalista, cos'è la performance di un'azienda? Sono i risultati che ho conseguito appunto, dovrei... Allora, Brunetta, che però ha fatto una riforma, adesso al di là, poi qui non siete pubblici dipendenti, ma quando vado a fare queste cose, lui ha detto che noi eravamo tutti fannulloni, eccetera, in realtà ha fatto l'unica riforma che è stata apprezzata all'estero in questi ultimi anni è stata proprio la riforma Brunetta della pubblica amministrazione, morta subito, appena nata, perché prima andiamo a dire adesso facciamo gli incentivi, facciamo questo, facciamo quell'altro, giorno dopo tremonti, blocchi i contratti della pubblica amministrazione, a quel punto muore tutto, restano due o tre norme, la trasparenza, no? Ma... No, ma infatti, poi le cose o sono un corpo organico che si applica, allora aveva un senso, ma dire adesso del discorso Brunetta, prendo la trasparenza, poi adesso addirittura è già venuta la legge 33, appunto il decreto legislativo 33, che vi dico io, ma ci vorrebbero anche qui un legislatore serio, non mi scrive che io sul sito devo mettere tutti gli atti degli ultimi cinque anni, tenerli, e devo scrivere questo, grazie, e devo scrivere quell'altro, eccetera, perché se no presuppone che io abbia dei funzionari che mi stanno lì tutto il giorno a fare il sito, perché non posso mettere sul sito tutto quello che viene scritto lì, che bisognerebbe, eppure il cittadino diritto che se ne per caso non trova sul sito quelle cose lì, ha diritto di andare a protestare, a dire qui, ecco, vedete che appunto se noi grattiamo in mezzo a quelle norme, che siamo tutti schiacciati dalle norme in questo paese, 150.000 leggi, tutti i giorni ne sforniamo, quante baste, poi adesso è venuta anche questa mania qui, e allora il cresci tagli e il salvi tagli, il decreto del fare, il decreto del non fare, soprattutto, eccetera, quello non si dice, il decreto del fare, no? Ecco, per dire che noi viviamo appunto di queste cose qui scrivendo delle leggi che sono inapplicabili. Allora, andare a scrivere, l'abbiamo detto prima, che il bilancio di previsione è 2013, si presenta il 30 di novembre del 2013, che è un bilancio annuale, è una stupidaggine linguistica prima di tutto, oltre che, diciamo, di sostanze, di contenuto. Come andare a dire? Facciamo la legge, il decreto sulla trasparenza, perché se no qui se non mettiamo tutto in piazza, chissà il cittadino cosa pensa che arrivino tutti lì così a grattare qualche cosa, e scriviamo quella cosa che è assolutamente inattuale. Se mi dicono pubblichi i bandi di concorso, beh, quello si sapeva già che si pubblicavano, mettici, non so, le determini, le deliberazioni, ma, beh, quelle cose lì, ma che uno vada lì e che poi debba mantenere l'archivio delle cose per cinque anni, eccetera, ma dico, ma, scherziamo. Quindi, la cosa più semplice è scrivere delle leggi così complesse che sono inapplicabili, e quindi uno, tutti hanno l'alibi di dire, non le applico perché sono inapplicabili. Tanto nessuno controlla, perché poi questo sarebbe un altro dei discorsi che meriterebbero qualche appunto, e quindi noi dobbiamo appunto dire come misureremo la nostra azione, cioè la nostra performance, e naturalmente ci sono tutti questi discorsi che nascono dall'efficacia dell'azione amministrativa e della legge 241, efficacia significa raggiungere degli obiettivi, ma gli obiettivi bisogna raggiungerli in maniera dignitosa, cioè avere dei risultati che vanno bene, quindi avere delle buone performance. Ma poi come le misuro queste performance? Le misuro con delle cose che si chiamano gli indicatori di performance, no? E gli indicatori di performance dove li compro? Non solo il portapalazzo, roba di questo. Uh, per carità, gli indicatori. Allora, noi di nuovo creiamo tutta una costruzione che è quasi inapplicabile nella pubblica amministrazione. Perché? Allora il privato, cerchiamo sempre di far andare avanti insieme i due soggetti, no? Il privato ha un indicatore che è sovrano, si chiama il mercato. Se io produco delle scarpe e chi le compra continua a comprarmi, significano due cose. Che io produco bene, qualitativamente bene, ho un prezzo che è accettato appunto dal mio cliente. Alla fine il mio conto economico, alla fine il mio bilancio è sicuramente positivo. Ma lì c'è un indicatore assoluto. Se io produco male, la gente non mi compra, immediatamente capisco che le cose non vanno, devo rivedere un pochettino la mia organizzazione aziendale. Ecco, nel pubblico che cosa sono gli indicatori di performance? Noi vendiamo dei servizi pubblici, ma i servizi pubblici come si misurano? In termini di costi e di ricavi, errore colossale, perché di nuovo qui noi applichiamo un concetto economico di costi e di ricavo che va bene nell'azienda privata, dove c'è un azionista che dice alla fine dell'anno, ma allora ci sono i dividendi o no? Ma nella pubblica amministrazione nessuno è azionista di un ente locale o che. Quindi lui ha degli indicatori di performance che non sono determinati dal mercato, da un scambio di beni o di servizi, ma dalla soddisfazione complessiva, da come riesce appunto a offrire quel servizio, il grado appunto di accettazione da parte dei suoi cittadini. Sono tante cose che tradurli, come dico, tutto il mondo, sia chiaro, tutto il mondo si misura, ma certamente abbiamo dei metri diversi da utilizzare se noi parliamo in un'azienda privata oppure se parliamo appunto in un'azienda pubblica. Ecco però, questo direi che siccome le norme alla fine ne parlano, è bene che più o meno si orecchino anche queste cose, che obiettivi, l'obiettivo non basta solo stabilire l'obiettivo, bisogna raggiungerlo bene, se lo raggiungo bene ho una buona performance e quindi poi devo trovare dei sistemi per capire se questa performance, questo risultato, rientra un pochettino, diciamo, nei limiti dell'accettabilità. E qui poi alla fine possono esserci delle cose molto banali, che sono poi sempre il buonsenso, no? Se, adesso parlo con delle signore, signorine, non lo so, la mia vicina fa delle buone torte e a me vengono a volte un pochettino così, cosa faccio? Dico, senta, ma tu come fai a farti la torta che ti viene proprio bene? Invece a me vengono sempre un po' polucetissimi. E guarda, devi far così, metti... Allora che cosa ho fatto? Ho fatto del benchmarking, ho fatto dei confronti. Vado dal mio vicino e dico, senti, tu che so che lavori meglio di me, mi dici cosa stai facendo? Ecco che allora attraverso a volte dei sistemi elementari di confronto, di scambio di opinioni, eccetera, si riesce ad ottenere quelle best practices, cioè le pratiche migliori, per avere le performance migliori, senza andare poi a farci la punta al cervello più di tanto per andare a trovare degli strani indicatori, perché se portiamo qui tutta la letteratura sugli indicatori nella pubblica amministrazione, vengono dei volumi così, c'è scritto assolutamente nulla. Sono dei perdigiorno, un po' come siamo noi che scriviamo, parliamo, eccetera, che sono dei perdigiorno che devono fare il concorso all'università, e allora scrivono, 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 scrivono. Delle cose magnifiche, eccetera, ma poi in realtà, tradotti in concreto, non c'è nessuna possibilità. E queste cose, per esempio, le abbiamo viste proprio nel famoso governo dei tecnici, quando adesso vediamo che alcuni degli interventi fatti dal Ministro Monti, eccetera, alla fine stanno cadendo uno, guardate solo la questione delle province, la questione delle aziende da privatizzare, che non sono andate male. Ecco, evidentemente, sono persone che fanno delle costruzioni teoriche troppo poco calate nella realtà. Peggio che peggio, quando io sento alcune persone, che tra l'altro anche conosco, che sono lì bellamente a Roma, e vi insegnano come si riduce la spesa negli enti locali. La mia domanda che faccio è, ma tu sei mai entrato in un ente, in un comune? Ma sai cos'è un comune? Il comune è piccolo e il comune è grosso, eccetera. E invece lì si scrivono, e sovente le leggi poi traducono questi concetti qui, in norme che sono assolutamente inapplicabili. Torniamo al buon senso appunto della casalinga, che a un certo punto si mette lì con buon senso, vuol fare la torta buona andando a chiedere alla vicina cosa faceva. E allora credo che poi queste cose voi le facciate tranquillamente, perché se sapete che all'amministrazione vicino c'è qualcuno che riesce a fare le cose un po' più in fretta, un po' meglio, scusa, ma come fai a fare queste cose? Dimmi un po', vengo a trovarti, prendiamoci il caffè insieme, no? Queste poi sono le spending review appunto più efficaci che non quelle di mettersi lì. Poi naturalmente nell'analisi occorre valutare se l'ammontare della spesa è giustificata, caso contrario ovviamente devo correggere se qualche cosa trovo che sia eccessivo. Quindi sono quattro passaggi che si possono impostare per incominciare a dire avviciniamoci a questo concetto appunto così curioso della revisione della spesa. Ecco, dicevamo appunto, non è un fenomeno che nasce in Italia, nasce anzi tutti i fenomeni, diciamo, del buon governo, che che se ne dica? Noi li andiamo a cercare fuori, perché noi non siamo in grado a fare regole di buon governo, almeno da un po' di tempo a questa parte, introduciamo tante cose, ma in realtà basta poi andare a grattare un pochettino, ecco che troviamo stati che vanno da un capo all'altro del mondo, che tanto per dire di revisione della spesa, di chiederci, ma a un certo punto faccio bene, faccio male, cioè fare l'operazione che enunciavamo all'inizio del buonsenso, dire, ma vediamo un po' se le cose vanno, hanno incominciato da anni a farlo, noi siamo andati felicemente avanti in questo nostro paese gaudente, che poi è arrivato a quel debito che appunto tutti noi conosciamo, non ci siamo mai posti appunto problemi di questo genere. A un certo punto, siccome poi dice noi siamo bravi, facciamo tante cose, siamo un po' poeti, navigatori e via dicendo, ma in realtà lo spread, guardate che viene fuori da queste cose qui, non è, adesso ci imbottiscono la testa, ah ma lo spread, se non sta su questo governo, allora lo spread va a 5 cent... Tutte fandonie. Dietro ai fenomeni della finanza internazionale c'è la grande speculazione, vale a dire, ci sono dei soggetti che muovono dei capitali che manco noi riusciamo a capire che identità hanno, altro che il nostro bilancino magari del comune, con qualche centinaia di migliaia di euro, robe del genere. Guardate solo una notizia di oggi che mi ha colpito, viene scoperto un quadro di Leonardo che si pensava non fosse mai esistito, qualche non ha visto la stampa oggi per caro, c'è una noticina piccolissima, c'è scoperto un nuovo quadro di Leonardo. Benissimo, questo quadro di Leonardo si scopre in Svizzera e appartiene a un collezionista che ha 400 quadri di questa forza qui. Allora voi capite che uno che possiede dei capitali di questo genere qui è uno che può muovere il mondo. Allora, la finanza internazionale non è mossa se cade il governo Letto, se nasce il governo Pinco Pallino, eccetera. La finanza internazionale è fatta dai grandi investitori, che sono quelli che possiedono migliaia e migliaia di miliardi, che si parlano. Anche qui parliamo di cose un po' passando di quelli là. Dice, ma in Italia, anche qui c'è la notizia qualche giorno fa, tutte le gare pubbliche sono tutte appunto truccate, no? No, ma abbiamo scoperto di nuovo perché. Ma voi pensate, quando Consip ha incominciato a fare le prime gare, no? Voi Consip la conoscete un po' di margine, no? Però qualcuno ha sentito parlare, bisognava accedere, comprare da Consip le cose. E noi facevamo quattro fasce di questo paese, dicendo che Consip trattava l'acquisto del gasolio per la fascia in alto, che era tutta l'Italia del nord, la fascia centrale, eccetera. I grandi concorrenti di queste gare non si facevano una telefonatina la sera appena e dicono, scusa, tu che ribasso fai per quella gare? Ma facciamo lo 0,28%. E quello è il cartello, no? Si chiama il cartello. Quando succedono i grandi tracolli o sollevazioni appunto della finanza internazionale, che quindi è quella che determina lo spread e tutte queste cose qui, non avviene perché io ho venduto mille fiat. È avvenuto perché qualche grande fondo di investimento straniero ha venduto un po' di milioni di azioni fiat. Se poi uno le vende c'è un altro che le compra, perché è sempre quello, la legge del mercato c'è un venditore e un compratore, no? Allora questi grandi fondi dicono, senti un po', io adesso sono un po' pieno di BTP, ne faccio fuori un po' e domani il BTP crolla e lo sprezzale. Il giorno dopo tu vatti a comprare quelli, poi ci dividiamo il guadagno. Questa è poi la logica di queste cose. Quindi diciamolo appunto, non è che guardino ai fatti interni più di tanto di uno Stato questi signori che poi sono i cosiddetti mercati, no? Andiamo a vedere se cade il governo Letta e i mercati come è capitato qualcosa. Pochissime cose. Poi però improvvisamente un giorno cadono tutti i BTP. Allora poi si scopre che era la Merkel che aveva dato ordine a tutte le banche tedesche di vendere appunto i BTP. Perché? Perché così andavano a comprare un pochettino i boni piuttosto che i BTP. Queste sono le realtà, eccetera. E quindi diciamo, sono fatti ininfluenti. Mentre invece il cattivo funzionamento, e vi cito queste cose, perché sono le attenzioni dell'internazionale, sono anche queste, ma il paese, l'Italia, è affidabile, che va a scrivere, che fa il bilancio di previsione annuale che dura un mese, un paese che scrive una bagianata di questo genere qui, è un paese affidabile? No, e allora non gli diamo più fiducia. E' quello che successe intorno al 2007, no? Lo vedete lì che a un certo punto il Fondo Monetario Internazionale era scucciato di guardare i bilanci dello Stato italiano senza capirci nulla. capitoli che non finivano più. Allora eravamo già nelle UPB, adesso voi non sapete cosa sono le UPB in regione. Si sa comunque, erano delle aggregazioni di capitoli. In ogni caso ce n'erano mille, più di 1500, che ognuno andava per proprio conto. E allora coloro che guardano i bilanci dicevano se c'è una certa omogeneità capiamo come vanno le cose, ma se c'è tutto un disordine di questo genere noi non ce li capiamo. E allora venne fuori una polemica terribile nel 2007 che il Fondo Monetario Internazionale diceva che il bilancio dello Stato italiano era un bilancio incomprensibile. Perché? Perché era fatto da più di 1500 voci, ognuna delle quale faceva strada per suo conto. Adesso io analizzo per fare degli esempi. Spese per la difesa e parlavamo, non so, di fondi per la cultura. Ecco, per dire ognuno andava per proprio conto. Dicevano mettetevi un po' d'ordine, cercate di... E allora c'era il buon padre Lo Schioppo, appunto, che era ministro di quel periodo lì e incomincia a dire ah beh, bisogna tenere conto, perché ci dico il Fondo Monetario che il bilancio è una struttura eccessivamente... Poi, oltretutto, il bilancio espone costi e programmi senza nessuna valutazione. Cioè, nessuna, appunto, c'è nessuna analisi dietro all'effettivo costo. Ma perché? Noi siamo fatti così perché noi nel nostro bilancio voi un po' di più, sempre dico enti locali dovreste farlo perché col conto economico, in qualche maniera, dovreste chiedere, vi chiedete l'analisi dei costi un po'... ma in generale, nelle altre pubbliche, compresa appunto la regione, si fa il bilancio finanziario. Il bilancio finanziario non guarda i costi, guarda le entrate e le spese, non guarda i costi e i ricavi. Quindi dà dei valori che non sono, appunto, riferiti all'effettivo onere che va sostenuto per produrre un certo tipo di servizio. E quindi noi avevamo un bilancio fatto in quella maniera lì. Processo di approvazione del bilancio, non parliamo, appunto qui noi siamo tutti abituati a quelle forme, assurde del vuoto di fiducia, il maxiemendamento, tutto quello che si può, eccetera, dove poi lì dentro si annida di tutto, cioè la proliferazione, come dicevo un pochettino qui, di emendamenti microsettoriali, no? Ecco, per chi ama queste cose qui, perché anche la contabilità sarà una scienza arida, ma ha tante belle curiosità, no, dietro. E in questi giorni noi sentiamo parlare molto di aumento dell'IVA, sarà il vento, è ormai avvenuto, dovrebbe magari tornare indietro, non lo sappiamo. Ma questo discorso dell'aliquota dell'IVA, in qualche maniera, appunto, è sempre stato abbastanza attuale. Allora, in una, quella famosa legge finanziaria del 2006, che aveva i famosi, un articolo a 1.356 commi, ognuno dei quali aveva tutto, una serie di cose, e per chi fa un po' il mestiere che faccio io, devi leggere queste cose, perché non sai che cosa sta avvenendo, eccetera. Allora, ricordo che stavo leggendo questa cosa, arrivo, non so, mettiamo al comma di questo unico articolo, 273, e trovo, riduzione dell'imposto sul valore aggiunto. Oh, beh, andiamo a vedere, allora, l'imposto sul valore aggiunto, è ridotto dal 20 al 10%, per spettacoli di burattini, spettacoli viaggianti, eccetera. Perché io dico, ma guarda, che bello, fortunatamente, i guitti pagheranno meno IVA. Vado avanti, io ormai affaticato, perché queste cose non è che si facciano così, devi prendere sette caffè ogni pagina che passi, eccetera. Arrivo a un certo punto, il nuovo comma, 700, riduzione dell'imposto sul valore aggiunto. Oh, dico, ma sto dando i numeri, non lo so, l'ho letto mezz'ora fa che c'era la riduzione, adesso mi trovo di nuovo la riduzione. Allora, vado a leggere, riduzione, l'imposto sul valore aggiunto, è ridotto dal 20 al 10%, su cavalli, asini, muli e bardotti, destinati alla macellazione. Al che uno lì comincia ad avere dei problemi, intanto la parola bardotto non è di facile interpretazione. Allora, cos'è? Non stiamo a fare proprio mai l'incrocio di questo con quell'altro, eccetera. E poi tu ti dici, ma chi è quella manina? Perché in quelle notti in cui si fa il maxi emendamento, lì dentro ci si infila di tutto, ecco quello che diceva il Fondo Monetario, la micro, appunto, proposta, microeconomia. chi è stata quella manina che in una notte tumultuosa è andata a infilare la norma che riduceva l'IVA dal 20 al 10% per asini, muli e bardotti destinati alla macellazione. Ecco, voi capite che un paese che fa queste cose qui non può essere credibile, e allora il Fondo ci dice, ma insomma anche sta cosa lì, guardatevelo un pochettino, piantatevi fare tutte queste leggi assurde, eccetera. E poi, appunto, ancora la scarsa attenzione, i risultati, anche qui, l'abbiamo detto prima, la programmazione era una cosa che pochi sapevano, e quindi se non c'è programmazione non guardiamo neanche se le cose avvengono, cioè non ci interessano i risultati. Il Fondo Monetario, piantato, adesso qui noi l'abbiamo ridotta, è messa un po' così in burletta, ma vi dico io che leggere queste relazioni c'è da pensare, e dice, ma guardate che qui non è che noi siamo bravi a fare il gioco delle tre carte in giro per il mondo e tutti ci credono, la gente ci sta misurando, ma minuto per minuto, per quello che facciamo, per come ci comportiamo, eccetera. Il buon padre lo schioppa che era lì, ah no, e poi c'era appunto questa cosa qui, che era la cosa che dava più fastidio, cioè continuare a impostare i bilanci pubblici sulla base della spesa storica incrementale. Vado a dire, qual è la spesa storica incrementale? Se l'anno scorso spendevo 100, beh, facciamo il conto dell'inflazione, mettiamoci il 10%, scriviamo uno stanziamento di 110, no? Questa è la spesa storica incrementale. Cosa ti servono questi 100, ma ti servono tutti? Magari in alcuni casi te ne potrebbero servire soltanto 90, in altri 100, ah ma no, ma la spesa storica incrementale era quello, aggiungere una percentuale, quasi sempre aumentativa, sugli stanziamenti di bilancio per creare la nuova previsione dell'anno dopo. E questo direi di nuovo, deponeva contro un paese che non faceva analisi di costi, che non stabiliva obiettivi, non sapeva in buona sostanza che cosa voleva fare, che programmi intendeva realizzare. Dicevamo appunto il buon Padro Schioppo, che era quello dei bamboccioni, questo lo ricordiamo tutti, non è che tutti avevano detto, interviene, cerca di fare delle cose, e senza anche qui, no? Appunto, pensarsi più di tanto, in certi punti facciamo delle leggi per spostare quella sedia di lì a lì, invece il Padro Schioppo, con una circolare, nel 2008, sostanzialmente fece un bilancio nuovo dello Stato italiano. Quindi, cancellò praticamente tutte quelle voci, così appunto, minute, eccetera, e cercò di identificare i grandi interventi dello Stato in quello che si chiamano le missioni, cose che vedremo poi, lo vedrete anche voi, non dal 2014, perché anche qui era già dopo difficile arrivare dal 2014 a fare la nuova contabilità, ma sarà già dal 2015, anche i bilanci appunto delle enti locali, regioni, eccetera, dovranno essere impostati in base alle missioni, i programmi, i macrogregati, eccetera. Lui l'aveva già anticipato e dice, beh, mettiamo nella missione quelle che sono le funzioni fondamentali dello Stato, vale a dire, l'ordine pubblico, la giustizia, e avanti di questo passo, in maniera tale che sia chiaro quanto lo Stato appunto dedica delle proprie risorse a quel settore lì, a quella funzione lì, all'interno, poi, quindi, tutte quelle voci diventano 34 voci grosse, le missioni. Dentro le missioni mettiamo un po' di più, perché bisogna poi fare un minimo di analisi, questi piccoli, microaggregati, li chiamiamo programmi, poi in tutto, si erano 100.63, che sono poi degli interventi specifici su ciascuna missione per come realizzare queste cose. ovviamente, diciamo, la cosa fu subito apprezzata, anche dal punto di vista degli organismi internazionali, perché in realtà noi ai 1500, che lo sono molto voci della spesa, ne sostituivamo 200, allora incominciava appunto a essere più comprensibile come venivano appunto dirottate le risorse pubbliche. Allora, si facevano delle operazioni di questo genere, magari qualcuno che è un po' più vecchio, diciamo, di attività contabile, eccetera, si ricorda la famosa riclassificazione economico-funzionale della spesa, cioè si prendevano poi i dati di bilancio e si riaggregavano, si disaggregavano per capire quanto si spendeva. Per essere chiari, se io volevo sapere da allora quanto spendevo per la ricerca scientifica, non avevo solo il bilancio del Ministero della Ricerca scientifica, che era quello che come funzione principale aveva la ricerca scientifica, ma dovevo andare a disaggregare tutte le voci di tutti i bilanci della difesa, della cultura, dei beni culturali, perché alla fine ognuno poi dedicava un po' di risorse, la difesa per esempio ha molte risorse destinate alla ricerca, magari per sfini non proprio nobili, ma certamente, allora dovevo disaggregare tutte le voci del bilancio e per capire quanto poi risommando le voci, quindi riaggregandole, mettevo insieme come spese per la ricerca e questa era una cosa che certamente noi lo facevamo, più o meno, stavamo lì, pasticciavamo un po' lì sopra, ma un osservatore straniero, un osservatore estero non si mette lì a disaggregare, aggregare, poi intanto non lo sa, perché andare a capire se dietro quelle voci effettivamente erano spese per la ricerca o non spese per la ricerca, era abbastanza difficile e guardate che dico queste cose perché sarà poi un problema che verrà fuori adesso quando si applicherà il nuovo ordinamento contabile anche negli enti locali di nuovo dove compaiono le emissioni, le funzioni specifiche, eccetera, perché ognuno di noi poi ha delle interpretazioni a seconda della giornata, non so se uno compra una pubblicazione da mettere magari nel comune può essere una spesa per la cultura per qualche d'uno e un altro dice ma no, per me è una spesa di rappresentanza perché intanto abbiamo ancora lì e allora andare a capire se quella spesa lì, quell'intervento lì effettivamente è un intervento per la cultura è una spesa di rappresentanza solo dall'interno si può sapere e quindi bisognerà che diano appunto delle codifiche che siano un po' migliori di quelle del SIOP perché anche qui abbiamo fatto tutto sto cancan con il SIOP e poi in realtà se tu vuoi avere un dato sulla spesa pubblica non ce l'hai nonostante tutte le codifiche che quotidianamente dovrebbero appunto dirci come vanno le cose quindi il padua schioppa di allora dice va beh semplifichiamo il bilancio dello Stato ci sono più 1500 voci 34 grosse più altre più piccoline sono per un totale grosso modo di 200 e questo fu appunto poi però diceva bisogna andare avanti e allora lui istituì la commissione tecnica per la finanza pubblica il quale aveva proprio il compito di rivedere ripensare tutte queste cose dare eventualmente nuove norme per la soluzione dei problemi dell'amministrazione nel 2008 però cade il governo Prodi di cui padre la schioppa era ovviamente ministro e addirittura chi viene dopo nel 2008 sopprime immediatamente la commissione tecnica perché dice ah no ma cosa ci stiamo a fare qui noi facciamo altre certe d'altra parte la politica è anche quella tutti sappiamo che anche nelle amministrazioni io sono andato avanti ho impostato un certo programma arriva la competizione elettorale arriva un'altra giuna per carità cancelliamo tutto e ripartiamo di nuovo da zero purtroppo uno dei nostri difetti anche quello di forse per un eccessivo individualismo certe volte può essere per una presunzione che ognuno di noi ha di voler sempre sapere di più di un altro finiamo tutte le volte di ripartire sempre da zero quando ci sono cose che magari bastava solo rimetterle un pochettino in movimento bene e si sarebbe arrivati a fare delle cose grege così avviene appunto Pado Schioppo pensa alla spending in rio in realtà non riesce a fare molto perché lui cade e poi arriva il governo Berlusconi non si dedica appunto finché nel 2011 ricade appunto il governo Berlusconi arriva il governo Monti e Monti la cui nome da tutti ce l'abbiamo ovviamente assimilato in maniera più che chiara aveva un'unica missione che era quello di tagliare tagliare eccetera perché se no l'Italia appunto lo spread eccetera andava a rotoli se poi appunto volete qualche cattiveria su queste cose qui le diciamo anche appunto perché lo spread non è una cosa che ci deve turbare più di tanto perché si è fatta questa campagna massiccia per dire bisogna far abbassare lo spread e roba di questo genere c'era un problema che era mica da quattro soldi cioè questi famosi duemila miliardi di debito addirittura ancora di più qualche tempo fa erano ancora un po' meno non erano in mano gli italiani vale a dire il debito pubblico era per lo più posseduto da investitori stranieri e allora gli investitori stranieri che cosa fanno nel momento in cui ti hanno prestato dei soldi quando scade la trans dei BTP eccetera dice no momenti io li voglio indietro i miei soldi io te li ho dati buoni e purtroppo questo è un rischio per gli stati è il rischio del default che non è un default perché l'abbiamo detto alla prima ma è l'impossibilità di restituire i prestiti che ha avuto attraverso i titoli delle obbligazioni pubbliche eccetera qual è il meccanismo che corregge il rischio e che il debito pubblico sia per lo più in mano agli investitori del paese il Giappone che ha il più grosso debito pubblico del mondo da sempre però esiste una forma di patto tacito tra l'investitore giapponese e il governo del Giappone il governo dice io ti do pochi soldi però stai tranquillo eccetera tu li presti a me e andiamo avanti così e in effetti nonostante tutte le crisi che ha avuto l'economia del Giappone comunque sta in grado in piedi noi invece avevamo un rischio forte che era il nostro debito pubblico in mano per lo più ai fondi di investimento americani che non avrebbero ammesso alle scadenze delle eventuali dilazioni quindi con rischio di non essere in grado di restituire un po' quello che poi ha fatto l'Argentina quando a un certo punto ha detto vabbè se li volete vi do il 30% non se ne parli più la Grecia pochi pochi mesi fa ha successo un fatto di questo genere a forza di martellarci monti oh lo spread guardate che qui stiamo andando tutta la volta noi oggi abbiamo una situazione che è un piacere per i nostri governanti vale a dire che il debito pubblico italiano è ormai per il 60% in mano agli investitori italiani quali sono e allora sono certamente tutti noi perché qualcuno che ha dei risparmi io piuttosto che andarmi a avventurare non so nei fondi di investimento ma il BTP male che vado una cedoletta me la dai quindi dice ma sono ovviamente le banche tutte le quali hanno operato in due direzioni con l'obbligo ecco perché poi dice c'è la crisi del credito nel nostro paese le banche non danno perché le banche se hanno dei soldi li devono investire nei BTP per cercare di tenere basso lo spread e quindi buona parte del debito è nella pancia come si dice delle banche italiane buona parte è nella mano dei risparmiatori italiani e quindi uno Stato che ha il suo debito in mano ai suoi cittadini cosa volete che abbia paura e domani se per caso non è in grado di restituire dice ma signore io lo prorogo di altri 5 anni e vai avanti e tu cittadino ti sentiresti dire no io li voglio non li voglio non conti niente queste sono le dinamiche poi che appunto stanno dietro a questi grandi fenomeni che vengono venduti in una certa maniera la cui realtà però è profondamente diversa quindi Monti lui ha fatto quest'operazione diciamo di lavaggio del cervello di tutti noi qui stiamo andando male ce l'hanno fatto tutti dal capo dello Stato non è stato lì a dire appunto tutti hanno avuto la loro parte a dire ah qui l'Italia stiamo andando a Rotoli bisogna fare delle cose Monti è arrivato ha dato delle mazzolate a destra e a sinistra con il fatto di dover in qualche maniera contenere appunto tagliare e cosa ha fatto ha aumentato mi subito introdotto l'Imus tutte le cose che sappiamo la Tares che non sappiamo come applicare ma scatta appunto in qualche maniera siamo alla fine anche qui del 2013 Monti ha detto bisogna applicarla dal 2013 viva Dio quando è che ci diranno come si applica la Tares cosa colpisse cosa non colpisse adesso pensiamo un momentino voi vedrete che poi alla fine qualche cosa verrà fuori in ogni caso fate come avete fatto l'anno scorso ecco la spesa storica incrementale mai trovare la regola giusta ma sempre dire facciamo come abbiamo fatto l'altro dopo ritoccando qualche cosa formalmente quindi Monti fa tutte queste cose qui e ovviamente appunto fa dei tagli di spesa che sono a tutti ben noti questo perché è di nuovo perché qual è l'altro spauracchio oltre che lo spread no che se ci capita uno spread sulla testa non sapeva più rialzarci eccetera è l'altro spauracchio l'Europa e dice signore qui quelli non sono mica disposti a farci degli sconti qui abbiamo i parametri mastri eccetera quella posso dirlo in Piemonte io non ho mai capito come sumano se siamo veramente al 2,8% al 3,3% nessuno l'ha mai capito perché noi forniamo dei dati a Bruxelles che non sono coerenti con quelli degli altri no altre barzellette della contabilità pubblica per stare su questi temi qui no noi uno dei parametri di mastri che era appunto quello che il nostro debito non dovrebbe superare tendenzialmente il 60% del prodotto interno lordo tutte queste cose le abbiamo sentite in tutte le salse 60% del prodotto interno lordo per noi appunto il prodotto interno lordo sono 1500 miliardi sono 900 miliardi di debito noi abbiamo il 130% più del doppio no tutte cose che si sanno ma noi siamo così ben pensanti che siamo andati a sottoscrivere il fiscal compact l'avete sentito anche questo l'impegno che noi già dal 2014 avrebbe il pareggio di bilancio il che significherebbe che noi dovremmo tagliare il debito pubblico per 15 anni di 60 miliardi all'anno comunque noi ci avventuriamo siamo un popolo di navigatori di avventurieri anche e quindi noi ci avventuriamo perché allora quando ci avventuravamo su queste cose noi avevamo questo famoso debito che era sempre superiore via dicendo e allora c'era il ministro che è stato lì tra Padova Schioppa che si chiamava non Monti ma Tremonti il quale gli è venuta in mente una cosa fu una furbata di quelle terribili no qual'era è un po' una storiella lunga ma cerchiamo di sintetizzarla no voi sapete che fino al 1992 le banche gli stati potevano indebitarsi presso la banca centrale cioè lo stato poteva chiedere alla banca d'Italia dei prestiti in buona sostanza l'Europa taglia questo e chiede a tutti gli stati di restituire alle banche centrali quindi per noi era la banca d'Italia quello che lo stato doveva in quel momento lì eravamo ancora in regime di lire e quindi noi dovevamo 47 mila miliardi di prestiti che la banca d'Italia aveva fatto lo stato e mica li avevamo questi 47 mila miliardi da restituire e allora cosa abbiamo fatto abbiamo fatto un titolo del debito pubblico che valeva 47 mila miliardi non negoziabili irredimibili che significa che non si può mai appunto riscattare che rendeva l'1% e l'abbiamo dato alla banca d'Italia mi tocca prenderlo e lo pigliamo meglio di niente e si mette a patrimonio i suoi 47 mila miliardi con questo titolo unico però il nostro debito continuava ad andare su allora Tremonti ha un intuito e dice ma se io dovessi andare dalla banca d'Italia e le dico senti un po' tu hai 47 mila miliardi dello stato italiano me li dai indietro io te ne do 25 mila di BTP eccetera tu alla fine ci fai un guadagno perché gli do dei titoli che puoi vendere che rendono di più dell'1% eccetera ovviamente scandalo a livello europeo una cosa così non si può fare poi purtroppo la politica a volte deve avere prevalenza a un certo punto viene fuori una finanziaria che autorizza questo concambio quindi autorizza lo stato italiano a ritirare i 47 mila miliardi e a ridare appunto i 25 alla banca d'Italia però da 25 a 47 c'erano 22 mila miliardi di differenza allora cosa significava questo che nella stato patrimoniale della banca d'Italia diminuivano 47 mila miliardi di attività quindi era un titolo e ne mettevamo soltanto 25 quindi c'era una differenza patrimoniale di 22 mila miliardi e questo era un problema lì sì che la banca d'Italia poteva andare in perdita e allora con quelle fantasie che abbiamo noi in Italia dice ma senti un po' ma questo oro che noi abbiamo è da un po' di anni che non lo rivalutiamo se facciamo una bella rivalutazione dell'oro forse andiamo in pari voi pensate quanto è costata quella rivalutazione lì e così vissero tutti contenti e felici noi abbiamo avuto un beneficio dello 0,6% sul rapporto debito PIL la banca d'Italia non ci ha perduto e cosa volete di più questa è la nostra finanza che ci piacciono e questa no comunque Monti aveva tutte queste cose ben chiare quindi Maastricht bisogna rispettarlo bisogna lacrime e sangue eccetera e poi appunto con sta storia del fiscal compact che teoricamente dal 2014 lo Stato italiano dovrebbe avere il bilancio in pareggio ovviamente va avanti secondo appunto questo suo calendario 3 maggio apposita direttiva per la spending review 7 maggio nomina il comitato interministeriale per la spending review nomina quel famoso commissario straordinario Bondi che doveva mazzolare tutti fare delle cose terribili eccetera e poi incarica un ministro Giarda che coordini tutto parte tutto questa e poi ovviamente consolida tutto nel famoso decreto che abbiamo detto all'inizio del 1995 che è proprio quello specifico della spending review decreto ovviamente interviene in molti settori della pubblica amministrazione dicendo quali dovevano essere appunto i tagli da fare le riduzioni eccetera ma ahimè a dire si fa in fretta ma poi i risultati Monti li voleva subito e allora che lui che cosa fa fa che fare i famosi tagli lineari di cui tutti voi sapete vita morte e miracoli e vale a dire che stabilisce delle cifre che poi addirittura incrementa poco poco due o tre mesi dopo con la legge di stabilità del 2013 per cui si doveva concorrere per province e comuni per 2,25 miliardi per il 2003 cioè si davano meno soldi in buona sostanza a comuni e province per questi importi qui punto questi sono i tagli lineari ovviamente lui stesso ritornava al discorso che tutte queste operazioni qui dovevano avere appunto un punto di riferimento in questi famosi costi standard dice beh adesso faremo i costi standard vedrete che non costerà nulla aver fatto il taglio da 2,25 miliardi vedrete che va tutto a posto infatti lo afferma in un suo decreto appunto che per l'efficacia realizzazione della revisione della spesa pubblica il governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi dei famosi standard quindi preventivamente poi però a luglio dimentica questo principio e fa i tagli lineari per cui tutti poi hanno subito e quindi la legge va applicata non ci sono altre possibilità appunto poi ovviamente fa altri interventi che sono meno significativi poi però il governo Monti anche lui non ha una vita facile cade il 27 di aprile e quindi il processo di spending di nuovo un po' si ferma approva ancora un provvedimento nel marzo decreto legge appunto dell'aprile in cui fa un po' una specie di marcia indietro prima era il suo commissario straordinario che doveva guardare le spese dei comuni doveva tagliare dove gli andava bene adesso lui introduce il discorso della famosa spesa media appunto per beni e servizi direi che non è che abbia cambiato granché le cose specie torno a ripetere nelle piccole amministrazioni di questi problemi sono certamente così insignificanti adondo determinare dei grandi sconvolgimenti rispetto a quello che si fa già abitualmente letta subentra non si dimentica della cosa e anche qui adesso incominciamo di nuovo a fare la storia che Saccomanni prima abbiamo pensato che si poteva bloccare tutto in questi giorni in realtà Saccomanni dice no la spending review la riprendiamo di nuovo nominerò anche io un commissario infatti si parla di un personaggio in questi giorni che dovrebbe comparire per fare queste cose qui non faccio più una cosa come aveva fatto Monti indifferenziatamente su tutti i settori individuiamo alcuni selettivi sanità là dove si pensa che ci sia la maggior spesa pubblica interveniamo soltanto lì sopra e poi udite udite la novità individuazione dei costi standard e sì perché se non ci facciamo questi costi standard non se ne parla proprio si dice sembra perché sono notizie da giornalisti che questa commissione che sta lavorando da tre anni sui costi standard forse nell'autunno di quest'anno arriverà a determinare il 50% dei costi standard degli enti locali quindi campo a cavallo eppure sono commissioni che è venuto di stare lì e dire spending review cominciamo a guardare se in tre anni non si possa arrivare a fare una definizione dei costi standard poi alla fine io sono sempre uno che tra il non fare nulla e sempre pensare al massimo dei sistemi o tentare di fare qualcosa e poi magari dopo qualche tempo rendersi conto che non è applicabile perché preferisco la seconda strada ma continuare a dire che la salvezza della finanza pubblica italiana sarà nel costi standard ai quali stiamo pensando da quattro anni ma in realtà non facciamo nulla mi sembra sempre un ripetere delle cose si parla di risparmi dai 3 ai 5 miliardi che però appunto ovviamente questo processo della spending review fa continuamente riferimento cancelliamo la spesa storica incrementale l'abbiamo già detto superamento di tutta questa cosa qui che di nuovo il federalismo aveva già in qualche maniera ripreso che bisognava cambiare questo criterio della spesa storica infatti nella legge 42 del 2009 quella che annunciava questa rivoluzione federalista appunto dello Stato si diceva che tutto il processo per l'abbattimento della spesa storica incrementale era legato all'attuazione dei costi dei fabbisogni standard e quindi quello già abbondantemente annunciato nel 2009 quali sono poi alla fine tanto per andare rapidamente alla fine le difficoltà perché quando noi abbiamo detto applichiamo i costi standard di nuovo o vogliamo usare un linguaggio aziendalistico allora i costi standard possono essere dei costi standard previsti stimati o dei costi standard da consuntivo allora noi per sapere quanto costa l'emanazione che so io la concessione edilizia presso un comune devo fare una selezione di tante cose di costi che sono avvenuti poi determino quel costo standard che sarà il costo perché poi questa è la cosa di quanto costa l'ordine pubblico in un comune bisogna andare a vedere quale sarà il costo minimo di un certo nucleo di persone che fa un certo lavoro per un certo numero di ore ma allora lo faccio in via preventiva o lo faccio in via consuntiva beh forse la via consuntiva un pochettino meglio perché allora partirei da dei dati certi e poi quello che dicevo magari in prima battuta sbaglio un po' tutto in realtà poi me lo correggo cammin facendo due anni dopo insomma non è che siano delle tavole della legge queste cose qui che non si cambiano per tutti i tempi dei tempi il legislatore ha continuato a ripetere questa storia bisogna fare i costi standard perché sulla base dei costi standard si determinano i fabbisogni standard in realtà non ha mai precisato come determinare questi costi standard se in via previsionale consumtivo e poi alla fine tira fuori qualcosa dopo tre o quattro anni che comunque se ne parla nel caso anche Letto ovviamente insiste che il futuro della finanza pubblica e della spendigrevio quindi sarà legata alla questione dei costi standard il governo Monti che aveva affrontato più di altri questo tema qui aveva comunque abbiamo visto emanato alcune direttive che in qualche maniera potevano dare una mano e qui andiamo proprio alla fase finale cioè come calare questi processi nell'attività quotidiana di tutti i giorni cosa devo fare se volessi farlo cosa faccio eccetera lui aveva emanato questa direttiva che ha dei punti interessanti da cui appunto si potrebbe muovere in qualunque tipo di amministrazione perché poi sono cose direi abbastanza anche qui sensate per fare qualche ritocco dei programmi di spesa quindi lui dice revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti verificando nell'attualità cioè quante volte escono fuori dai soldi verso centri esterni dell'amministrazione si sono sempre dati ma li han chiesti anche quest'anno e li continuiamo a dare eccetera e beh minimo di riflessione ma senti un po' mi spieghi cosa ne hai fatto eccetera e quindi magari sui mandare fuori dei fondi qualche riflessione anche qui sempre pensando alla differenza che c'è tra il grosso ente e l'ente poi piccolo modesto perché è chiaro che in un piccolo comune grandi trasferimenti verso soggetti esterni non credo che ce ne siano al massimo si dà un po' alla proloco tanto per tenerli in piedi fa la festa del non so della cotoletta fritta non lo so e quindi questi sono dei trasferimenti esterni che magari possono avere un significato e lo hanno sicuramente oppure magari alcuni possono essere anche utili per il dimensionamento delle strutture dirigenziali beh questo direi di nuovo è un punto molto di interesse forse per le grosse amministrazioni molto meno per le piccole e medie forse le funzioni dirigenziali non ci sono e quindi non è il caso razionalizzazione dell'attività dei servizi offerti abbattimento dei costi migliore distribuzione del personale qui qualche cosetta anche nelle piccole amministrazioni certe volte si può fare pur tenendo presente anche qui le difficoltà operative è il sindacato che a volte si può opporre infatti non per niente Brunetta fu contestato dal sindacato nella sua riforma perché dava al dirigente la possibilità di intervenire sull'organizzazione del personale con i poteri del datore di lavoro privato e lì i sindacati hanno detto ma come qui per spostare un dipendente da un ufficio all'altro prima venivano convocate le RSU e adesso questi possono fare eccetera io sono poi sempre quello che diceva se effettivamente la situazione è così evidente in cui ci sono ci sono appunto esubere da una parte scarso invece impegno da altre parti ragionando tra persone che vogliono risolvere i problemi qualche cosa sicuramente si tira fuori riduzioni anche mediante accorpamenti delle partecipate anche qui che cosa dolorosa anche qui abbiamo fatto una legge nel 2010 bisognava ridurre le partecipate quante partecipate avete soppresso posso farvi una domanda così un po' brutale perché gli enti fino a 30.000 abitanti alla fine dell'anno non possono più avere partecipate quelli da 30 50.000 possono averne soltanto una quanti le hanno soppresso almeno da una visione complessiva si risulterebbe che insomma non ci siano stati dei grandi entusiasmi per sopprimere queste partecipate dice ma perché non ci sono gli entusiasmi da un lato l'aspetto diciamo l'aspetto negativo sopprimere significa togliere qualche d'uno a cui avevo dato l'incarico di fare il presidente della società Pinco Pallino e poi quelli magari ce l'ha con me non mi porta più i voti eccetera perso ragionamento eccetera dall'altro le partecipate ma chi se le compira cioè lì il discorso cioè noi se parliamo di vendere la GTT a Torino può darsi diciamo può darsi che ci siano degli acquirenti interessati ma se vendiamo qualche quota di partecipazione in qualche società nata storicamente per magari per studiare non so il volo delle api nel Cunezo roba del genere chi è che va a comprare delle partecipazioni non te le disfi più quelle lì te le tieni altro che allora le puoi solo cancellare con un colpo di penna finisse lì non è che tu puoi disfarti delle partecipate quando buona parte delle partecipate delle amministrazioni locali sono quelle buon grosso numero però insomma c'è un'indicazione di dire guardate anche quello riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi credo che questo lo facciate ormai sistematicamente ricognizione degli immobili in uso anche qui direi che sovente ci sono appunto delle situazioni magari non dico proprio di spese inutili ma di cattiva allocazione eccetera pochettino direi qui persino la regione Piemonte ha pensato che forse invece di spendere tutte le cose degli affitti di qui di là facendo una casa unica magari riesce a caprabbattere le spese sono cose ovviamente qui proiettate nel tempo da altre parti potrebbero essere più rapide ma insomma in qualche maniera si può anche intervenire ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà restituzione all'agenzia del demagno di immobili che eventualmente non servono ma ripeto sempre per grosse amministrazioni estensione alle società in ausa anche qui grosse amministrazioni sapete quelle che possono intervenire con affidamenti diretti delle regole vicende che vigono per l'amministrazione in materia di consulenza se no alla fine salta sempre fuori che nella società fuori si danno tutte le consulenze che non si possono più dare nell'amministrazione centrale questo è un po' a volte il senso delle cose spese di rappresentanze per convegni anche qui in certi momenti si sono appunto un po' si è largheggiato dal punto di vista delle spese di rappresentanze dei convegni Monti diceva fate delle operazioni di revisione guardate se effettivamente queste cose servono e poi attenzione questo è di nuovo un punto molto complicato eccetera di non a volte diventare ufficiali pagatori di fronte alla soccombenza di fronte dei contenziosi uno si era dimenticato di impugnare che il dipendente aveva chiesto la rivalutazione dell'indennità di buon uscito e quindi viene condannato a pagare una somma che magari avrebbe potuto non pagare se si fosse stato un po' più attento nel presentare a tempo debito le sue memorie difensive ecco sono alcuni punti che direi che hanno già un bel programma di lavoro se uno si mette lì nella propria amministrazione allora vediamo gli immobili come stiamo mi pare che appunto sempre volendo calare pragmaticamente spending review nella mia amministrazione di tutti i giorni in quello che io faccio qualche spunto mi viene appunto anche da questa cosa di Monti naturalmente tutto questo viene in buona parte aiutato anche se poi il processo sarà un pochettino più lento abbiamo detto non sarà 2014 ma sarà ormai il 2015 dal nuovo sistema contabile perché voi siete già come abbiamo detto più preparati ma guardando le amministrazioni pubbliche nel loro complesso l'introduzione di un budget l'introduzione delle missioni come avevamo detto già poco anzi dei programmi può essere un utile appunto supporto tecnico per fare delle rivisitazioni come si suol dire dei processi di spesa che poi sono una delle attività che stanno alla base della spending review e poi appunto tutta la storia che in parte l'abbiamo già un po' sorvolata che non si guardi solo più alla spesa ma i costi cioè quello che è il concetto ora voi siete state appunto abbastanza già abituati qualche d'uno un po' più qualche d'uno un po' meno a fare queste cose però magari avendo generalizzato questi processi anche in altre amministrazioni si crea una cultura maggiore rispetto al concetto di costo rispetto a quello di spesa il concetto di budget come strumento per stabilire degli obiettivi e avanti di queste cose ma naturalmente tutto questo se noi fossimo in un paese come si dice normale siccome non siamo in un paese normale ma non diciamo anormale perché se no diventiamo anormali tutti noi siamo in un paese un po' curioso e strano che si dibatte a livello centrale politico in mille cose beh la conclusione dice la spending review in parte l'ho già fatta ma proseguirò nella spending review fai da te punto e io con questo direi chiuderei questo capitolo della spending review dicendo che forse alla fine il proverbio aiutati che il cielo d'aiuta va sempre bene anche facendo la spending review grazie per l'attenzione o naturalmente abbiamo tempi contingentati ho anche cercato noi deve stare qui anche qui ci diciamo le cose non credo che siano svelare delle cose e ce le diciamo siamo al venerdì la buona volontà che voi avete messo nel venire oggi a sentire queste amminità eccetera di spending review vi torna punto merito eccetera quindi ci sono tante cose già si cerca comunque di compattare un po' di più se però e ripeto grande tranquillità volete ancora cinque o qualche d'uno ancora qualche dubbio sia sugli argomenti che abbiamo un pochettino così spazzolato o sia su altre cose diciamo di spread o non spread io sono qui a vostra disposizione volentieri per dire qualunque tipo di cosa voi avviate necessità o desiderio di chiarire ci sono delle domande sì lavoro in sanità da 33 anni qualche considerazione se ha voglia sulla spendere review review sanitaria della nostra regione mi interesserebbe e con un accenno se ritiene perché è la mia materia in cui lavoro sull'integrazione sociosanitaria cioè quella famosa scissione che c'è stata nel 1996 in regione che ha creato poi due enti sostanzialmente che gestiscono la stessa materia che è il welfare grazie no la mia la mia era solo una considerazione mi hanno sempre insegnato che quando arrivano i revisori dei conti è perché la barca è già affondata mi sembra tutto questo una gran presa in giro e non so perché il popolo italiano sta ancora a farsi prendere in giro cioè noi come cittadini secondo me questo è un momento veramente difficile e visto che tutti lo sanno che cosa possiamo fare perché spendere tre anni per dettagliare delle cose mi sembra veramente eccessivo sono tutti i costi della società le prime risposte appunto allora la domanda che io adesso le ribalto lei dice ma io lavoro in sanità allora la domanda è fatta come amministratrice o come dipendente ecco beh perché appunto io adesso devo chiedere licenza qui perché questa è la seduta della consulta delle lette se fosse un corso di formazione ma io le rispondo ugualmente perché non ho nessun problema allora il discorso è molto semplice cioè voglio fare degli esempi per farmi capire di più e qual è il mio pensiero ma che in parte era già contenuto nelle cose dette prima cioè nella pubblica amministrazione il rapporto costo e ricavi va interpretato in una certa maniera e non in un'altra perché ci sono delle esigenze dei bisogni pubblici eccetera che vanno comunque soddisfatti che costino o non costino adesso la storia della sanità tanto per dire è una storia lunga perché se io guardo al bisogno sanitario che c'era 50 anni fa era quando io mi rompevo il braccio andavo a farmi i raggi X finiva lì io oggi faccio i raggi X poi non mi basta non devo farmi fare la tappa sono dei costi ma sono dei costi che sono legati allo sviluppo scientifico tecnologico e all'attese dei cittadini che una volta erano anche più sopportavano di più e invece oggi tutti hanno bisogno di essere belli spimpanti eccetera perché il modello che viene presentato oggi è questo quando io vedo appunto risolti i problemi della pubblica amministrazione sopprimiamo le province perché costano io dico certo che costano ma qualche d'uno si è chiesto se servono non servono eccetera che scompito svolgono eccetera quando avremo esaminato tutte queste cose qui vedremo anche il problema del costo e se no a un certo punto devo trovare quelle risorse aggiuntive che mi consentono di coprire questi fabbisogni qui tradotto in poche cose cioè la sanità non si riforma attraverso i tagli lineari punto si riforma attraverso un lungo processo di confronto di scambio di opinioni eccetera che mi porta a fare io che poi politico devo prendere la decisione un mio convincimento ma che sia fondato su dei supporti che non è solo perché si spende troppo bisogna tagliare a volte si ha l'impressione ma avviene qui ma avviene a livello dello Stato quando ho detto Monti lui voleva ad ogni costo ridurre la spesa che l'ha fatto tagliato ed è la storia di quello se vogliamo fare proprio delle banalizzazioni di quello che voleva avere il conto in banca bello robusto e non mangiava più poi un bel giorno aveva il conto in banca ma poi alla fine è morto di fame e qui è un po' la stessa cosa nelle cose pubbliche bisogna stare molto attenti a dire riduciamo tutto a un rapporto di tipo economico che non abbia alla base una valutazione approfondita del bisogno che tu in quel momento lì devi soddisfare e qui mi sembra che appunto in tutto questo discorso qui sovente si dimenticano queste cose qui bisogna ridurre la spesa e allora che piaccia o non piaccia bisogna guardare anche un po' alla storia e dire ma insomma se siamo arrivati a questo punto qui di dover fare i tagli lineari come ha fatto Monti a livello dello Stato siamo tutti così verginelli che non abbiamo nessuna colpa forse non si poteva fare qualche cosa e allora andiamo incominciamo andare a vedere dove alcune cose sicuramente l'ottimizzazione si può fare io dico conosco sufficientemente gli ambienti pubblici per dire che proprio tante cose siano delle spede dovute io preferisco sempre pensare che se ho quattro soldini magari li metto per fare un intervento a favore di un non autosufficiente piuttosto che magari andare a comprare tanti libri patinati che poi non servono a nulla un po' il mio pensiero è questo ma che è un insieme di pensieri che è dovuto al fatto che noi siamo sempre più attenti ad avere una sanità che funzioni in tutte le maniere a me la storia di dire riduciamo la spesa dei farmaci perché andiamo a comprare i farmaci generici ma scherziamo io vado lì e voglio comprarmi quella scatoletta con quella cosa perché so che a me fa bene e vado dal farmacista e dice no ma guarda che questa pastiglia qui vale quanto la prima non ci sto e dice viva Dio e poi qui entriamo a fare dei discorsi ancora più ampi che sono il discorso del prelievo fiscale che nasce nella storia del mondo proprio come dover pagare qualche cosa per avere dei servizi pubblici allora se io già sopporto un prelievo fiscale e beh qualcuno me lo deve distribuire meglio il prelievo fiscale punto discorso sa la storia del socio assistenziale potremmo andare avanti per vent'anni a dire meglio una cosa una meglio l'altra sa andare a distinguere se il malato non autosufficiente sia un malato è un po' la storia appunto del tossicodipendente se il tossicodipendente è un malato oppure invece uno che bisognerebbe pigliarlo abbastonati io francamente non ho delle competenze tali per poter dire vado per approssimazione io dico che al di là di alcune cose certamente oggi l'assistenza sanitaria è più estesa come concetto di quanto non fosse una volta dove l'assistenza sanitaria era andare all'ospedale a farsi l'appendicite no? chiaro la storia dei revisori dei conti quando arrivano i revisori sa cosa fa paura quando arriva non i revisori ma la procura della repubblica i revisori sono personaggi di grandissimo fascino che sono così sensibili alle cose che a volte gli dicono guarda che qui c'è un buco di bilan ma io non l'ho mai visto e questo diciamocelo chiaramente qui il revisore adesso arriverà vanno anche da voi poi vedrete come vi torcheranno appunto ma dove ci sono ma signore ma piantiamola lì sono gente di partito che vanno lì presentano una candidatura che dal di là di tutte le commissioni nomine dice sì lì mettiamo uno di destra i revisori dei conti sono quelli anche nelle grandi amministrazioni quando io so benissimo di grossi comuni che bilanci o meno male in qualche maniera qualche volta mi so anche leggere e quel revisore lì che aveva dei buchi grossi così nel suo bilancio mi fa la relazione del revisore dove dice che tutto è perfetto e pertanto il bilancio io piglierei la caccia metterei dentro prima di lui prima ancora degli amministratori perché il revisore è uno che se dovesse fare il suo mestiere per carità sarebbe l'ottimo anzi sarebbe il miglior sistema di controllo perché è inutile tirar fuori la corte dei conti che sta fuori non sa che cosa avviene il revisore dovrebbe star lì e guardare atto per atto ecc certamente sì anche qui e poi chiudiamo appunto la cosa e con un po' togli lavarci la coscienza in questo paese noi siamo andati avanti per anni a fare le leggi dove qualunque cosa che ormai succedevano gli scandali i tangentopoli chi rubava chi portava ecc si fa un atto allora faccio questo atto per stampare e devo mandare la delibera o la determina alla corte dei conti la corte dei conti e questo per ammissione dei magistrati della corte dei conti non hanno anche lì non è come fare dicevamo prima fare il sito dell'amministrazione dove dovresti star lì avere 18 persone che curano i siti la corte dei conti è fatta da alcuni soggetti che fanno un lavoro magari anche con qualche pausa persino eccessiva ma però fanno quei lavori se dovessero mettersi a controllare tutto quello che si dice va dalla corte dei conti dovrebbero essere un esercito di persone che lavorano 48 ore al giorno per loro ammissione si dice non lo facciamo e allora noi invece ci laviamo la coscienza perché abbiamo detto nella legge che quell'atto lì è perfetto perché lo guarderà e noi ci siamo scaricati abbiamo addossato la responsabilità a un terzo soggetto senza sapere se questo soggetto lì era in grado di farlo però la nostra coscienza ti dice ma io ho fatto tutto quello che posso perché non l'ho controllato io ma guarda che l'ho mandato alla corte dei conti ecco queste purtroppo allora noi nominiamo i revisori dei conti perché ci sono ma ci saranno i revisori e quelli fanno quello che possono mandiamo alla corte dei conti e quella fa quello che può o quello che vuole e alla fine i 2 miliardi 2.700 miliardi di buchi nelle regioni nei comuni questo purtroppo è la realtà e allora qui sarebbe un altro argomento di come organizzare i controlli piuttosto che come intervenire sulle riduzioni delle spese oggi ci siamo dediti a quello ma magari un giorno ci dedichiamo anche ai controlli di buchi Grazie.